Signori, clamoroso, il Napoli, il Napoli, il Napoli sta avendo un'altra occasione, il Napoli sta, nonostante il 6 a 1, sono gli ultimi minuti, sta sciorinando calcio, certo, l'Ajax oramai è inesistente, è in depressione profonda e quindi il Napoli fa ciò che vuole, giocano oramai le riserve, Gaetano, Elmas, però il Napoli ha fatto un partitore. Ha fatto un partitone che rimarrà nella storia, record, record del numero di gol, 6, se non ne fa ancora un altro in questi pochi minuti, quindi assolutamente una partita che rimarrà nella storia, il Napoli dimostra di essere forte, ha giocato bene, fortissimo, sin dalle prime battute, Cioè il Napoli era padrone sin dalla prima battuta e ha avuto questo gol, questo gol si è fatto infinocciare, fatto infinocciare, dall'Ajax mi pare al nono minuto, ma poi, ma poi, ma poi sì, bene, benissimo, Raspadori, grande partita. Raspadori, Raspadori ha fatto quel gran gol, perché vedo un bel gol, non me l'aspettavo, perché Raspadori che aveva fatto le prime partite male, pur segnando, pur segnando contro lo Spezia, ma giocando male, per me, ha fatto Lecce, Spezia, ha giocato male, Lecce, Spezia, e anche a San Ziro, il signore aveva giocato male, poi, però aveva segnato con lo Spezia, E poi, il nazionale ha segnato, poi si è scatenato, Raspadori sta raspando, gol, da tutte le parti, e ha giocato, scelta, scelta, aziccata, scelta, aziccata, di, di, perché potevano far scendere, scegliere, poteva scegliere anche, Simeone, ma lui è sembrato pimpante, Raspadori, onestamente, ha giocato, è stato uno dei migliori, ha giocato bene, ma gli hanno giocato tutti bene, E poi, lo botca, sembrava, sembrava di stare, stare al circo, al circo equestre, faceva, faceva giri tondi, girotondi, eccetera, ma tutti, Oliveira ha giocato bene, di Lorenzo, grandi gol, non me lo ricordo neanche più, i gol del Napoli, quanti ne ha fatti? 6, ma non mi ricordo, di Lorenzo, di Lorenzo ha avuto, ma grande il cross di Quaraschelia, sul colpo di testa di Lorenzo, di Lorenzo, e Quaraschelia ha fatto un cross, perché lui, lui, lo, taglia il pallone in maniera strana, fa uno scavetto, è andato proprio sulla testa, bravo, perché poi Quaraschelia, sì, chiaramente non riesce più a fare tutti quei dribbling, perché ormai l'hanno, 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 insomma, capito che è un pericolo e che quindi lo chiudono, vedi col Torino, vedi anche oggi, però trova sempre, trova sempre lo spunto e comunque, e comunque fa, 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 niente, insomma, crea problemi, quindi ha segnato poi alla fine, ha fatto, ha fatto il cross, ma rappresenta un pericolo costante, signori, anche stava oramai, non so, un po' lo spadroneggiava, signori cari, questo Napoli, questo Napoli è proprio forte, ovviamente, diceva, sai, le volte quando succede questo, fai sei gol, no? Quando fai sei gol, sembra, quasi quasi sminuisce la vittoria, perché uno diceva, ha vinto 2 a 0 ad Amsterdam contro l'Ajax, in quello stadio, in quel catino, in fuocato, e lui diceva, che vittoria, però si diceva, ha vinto 6 a 1, allora chissà proprio, è una squadretta, capito? Però non è così, cioè, è così anche, perché onestamente questo Ajax ha deluso, ha deluso dal punto di vista tattico proprio, perché, diciamo, il gol di Zelishky, ecco, dopo di Lorenzo, quindi di Raspadore, di Lorenzo, Zelishky, è una bellissima giocata, ma se tu metti un giocatore e gli altri stanno più giù, vuole uno che mantiene in gioco tutta la squadra, la squadra è bella, insomma, Zelishky ha fatto una passeggiata fino al portiere, insomma, onestamente queste cose non si dovrebbero vedere oggi sul campo di calcio, però evidentemente, basta, basta, il Napoli, onestamente, ha giocato con una memoria, onestamente una partitura, ha pressato, ha pressato all'inizio, signori, ma questa è una grande squadra, e lo sapevamo, onestamente io quest'anno non ci credevo tanto, perché è vero che l'anno scorso, perché poi alla fine il gioco c'era l'anno scorso, però mi aveva deluso, non credo che questa squadra, questa squadra non si fermerà più, non è detto che vinca, lasciamo stare la Champions League, non è detto che vinca lo Scudetto, assolutamente, perché il Milan è forte, vedete il Milan che ha battuto all'ultimo minuto gli ingenui Empolani, perché farsi prendere, farsi prendere prima un gol in quella maniera, poi riesci a pareggiare, poi ti distrai nei festeggiamenti e fai prendere gol, questo significò, quindi diciamo, però il Milan è forte, l'Inter mi pare che vinceva stasera, quindi contro il Barcellona, ma comunque sembra che chiaramente il Milan potrebbe essere quello più, l'ostacolo da sormontare più difficile, anche l'Atalanta c'è, però voglio dire, questo campionato il Napoli allestamente può vincerlo signori, può vincerlo e in questo momento è la squadra più forte, non ci sono dubbi, per quanto riguarda la Champions League dobbiamo per forza passare il turno, non possiamo non passare il turno, penso che basterà una vittoria, la prossima partita, la prossima partita con l'Ajax stesso, se riusciamo a vincere attenzione a non distrarsi, perché se uno si distrae, ma questo Napoli non si sta distraendo, questo Napoli ha deciso che quest'anno vuole arrivare fino in fondo, onestamente onestamente, basta, che vogliamo dire? Vogliamo dire qualche altra cosa? Beh, Napoli è una grande squadra, bisogna dire la verità, non so se vincerà lo Scudetto, ma sicuramente farà delle cose buone, stavolta non se lo farà, non si farà prendere da quella forma di preparazione che l'anno scorso ebbe, e io contestai Spalletti, a cui mi devo inchinare, mi devo inchinare, mi devo inchinare perché onestamente uno che fa giocare una squadra così, cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire a uno che fa giocare questa squadra? Così, non è merito i giocatori, i giocatori sono messi bene, grande Spalletti, gli hai dato una grande carica a questi giocatori, sin dal primo minuto non si fermano, questi qua, questi qua presso, una cosa presso, bravo Spalletti, è merito di Spalletti, l'anno scorso era merito di Spalletti se eravamo arrivati lì, però aveva sbagliato, certo nessuno è perfetto, perché quelle partite erano andato in tilt e io ce l'avevo con te, che ti avevo ben, diciamo, ti avevo ritenuto veramente un grande allenatore perché lo avevi dimostrato, ma poi ti sei perso al momento cruciale, però credo che tu quest'anno hai fatto tesoro degli avvenimenti dell'anno scorso, sei orgoglioso, non hai voluto riconoscere degli errori, eccetera, però devo darti merito, grande Spalletti, grande Spalletti, basta, qui sei, non ci dobbiamo fermare più, qualcuno mi faceva notare, qualche caro amico dice, ma bisogna stare attenti perché il palazzo è colui che decide chi vince lo scudetto e chi non lo vince, e io gli ho disposto che probabilmente anche al palazzo farà piacere se il Napoli quest'anno dovesse vincere lo scudetto, però non parliamone, parliamo così, ovviamente Champions League, bisogna passare il turno, però l'obiettivo a questo punto è l'obiettivo, è il campionato, basta, che vogliamo dire? Forza Napoli, siete forti, cremonese, bene, l'arriva la cremonese, ecco, sempre queste cose, ecco, siamo sempre attenti perché possiamo avere un calo di tensione, signori, e col calo di tensione per di me, per di me i punti che la cremonese, no, non bisogna perdere un punto, perché poi ci sarà, ci sarà poi la sosta del, come si chiama, dei mondiali dove purtroppo noi ci staremo a guardare così, le farfalle così a guardare, però, però è quello, dopo succede che ci sono, cambiano, cambiano tante cose, quindi andiamo di diritti prima dei mondiali e cerchiamo di vincere più partite possibili. Grande Napoli, basta!